Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti, sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi sono qui con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Vi ricordo inoltre come sempre che il fine del mio canale e dei miei video è sempre quello di denunciare, di fondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Siti Aisha è una giovane donna che nasce in Indonesia il 12 febbraio del 1992. Siti si sposa molto giovane e fa un figlio di nome Rio ma questo matrimonio purtroppo non dura e il divorzio la lascia senza soldi da sola e con un bambino piccolo da crescere. Siti in Indonesia non sta passando un bel periodo, non riesce a trovare lavoro e per questo infatti prende una decisione. Lascia temporaneamente suo figlio Rio ai nonni, ai suoi genitori e si trasferisce in Malesia a Kuala Lumpur dove trova lavoro come massaggiatrice in un hotel. Ma questo lavoro paga davvero pochissimo quindi Siti è costretta a prostituirsi la notte e per incontrare i suoi clienti frequenta un nightclub che si chiama The Beach. All'inizio di gennaio del 2017 Siti incontra un uomo in questo nightclub che le dice di avere un'opportunità lavorativa molto vantaggiosa per lei. Quest'uomo faceva il tassista, ma le dice di avere un cliente giapponese di nome James che era a quanto pare un produttore di uno show che andava in onda online, pensate proprio qui su YouTube. Quest'uomo dice a Siti che questo James stava cercando giovani donne proprio come lei ed era sicuro che lei sarebbe stata perfetta per la parte e la mette subito in contatto con questo James. I due si incontrano di persona già il giorno dopo in un centro commerciale. James era un uomo molto giovane e di bell'aspetto, ma Siti nota subito che apparisse un po' timido. Comunque James le spiega bene in che cosa consisteva il suo programma diciamo su YouTube. Praticamente si trattava di un prank show, quindi tipo candid camera, sapete quei video di scherzi, quei video in cui vai in un posto, fai degli scherzi spesso scemi alla gente e ci sono delle telecamere nascoste che riprendono il tutto. Gli servivano infatti delle giovani donne appunto disposte a fare questi scherzi a gente ignara di tutto. Le spiega che quel canale YouTube era molto popolare in Giappone, infatti la paga era decisamente alta. E questo basta a convincere subito Siti che aveva disperatamente bisogno di soldi. Pensate che l'avrebbe pagata all'equivalente di circa 100 euro per scherzo. Lo scherzo che Siti doveva fare era molto semplice. Doveva prendere un uomo a caso e praticamente spalmargli in faccia dell'olio, tipo l'olio Johnson's Baby per capirci, e poi andare via. E ovviamente le telecamere nascoste avrebbero catturato la reazione del povero disgraziato di turno, vittima di questa cosa divertentissima. E in realtà lì per lì anche Siti è abbastanza perplessa e non capisce che cosa ci sia di divertente nello spruzzare, spalmare olio in faccia ad un poverino per strada. Ma James la rassicura dicendole Fidati, in Giappone queste cose vanno alla grande, la gente le trova super divertenti. Siti era più che altro preoccupata che qualcuno avrebbe potuto reagire male allo scherzo o addirittura in modo violento. Ma allo stesso tempo la paga era davvero buona e lei aveva bisogno di soldi, quindi accetta. James però le dice che prima di, diciamo, assumerla, doveva fare una prova lì in quel momento. Siti accetta e allora James tira fuori una bottiglietta e versa un po' di olio nella mano di Siti, che si incammina nel corridoio del centro commerciale in cui si trovavano in cerca della sua vittima. James filmava tutto con il suo iPhone. Siti, tra tempo, è nervosissima e il cuore le batte all'impazzata. Si avvicina ad un ragazzo che era in piedi lì da solo nel corridoio, gli spalma in faccia tutto l'olio e se ne va. E con sua grande sorpresa non succede niente. Questo ragazzo non reagisce, cioè è palesemente confuso, non capisce bene che cosa sia successo, ma non la insegue, non la insulta, non reagisce in modo violento. Quindi Siti è sollevata. Torna da James, che si complimenta con lei per l'ottimo lavoro svolto e gli dice di fare altre due prove, così per prenderci la mano. Siti esegue gli ordini, si riempie di nuovo la mano di olio e va a spalmarlo in faccia ad altri due sventurati nel centro commerciale e tutte le volte la passa liscia. Le vittime sono talmente confuse da non reagire neanche. Quindi Siti non ha ripercussioni e diventa ad ogni tentativo, ad ogni scherzo, sempre più sicura di sé. James è molto soddisfatto. Questa ragazza aveva un talento nello spalmare olio in faccia alla gente. Le dice quindi che se fosse ancora interessata, l'avrebbe assunta molto volentieri. Lei accetta senza batter ciglio. Oltretutto, amici, quelle prove erano tutte retribuite e vi ricordate la paga era di circa 100 euro a scherzo. Quindi in quei 20 minuti Siti aveva fatto più soldi di quelli che guadagnava solitamente in una settimana del suo normale lavoro. Nelle settimane successive Siti e James si incontrano svariate volte in diversi centri commerciali, sempre per replicare questi scherzi. Si trovavano in un luogo affollato. James versava un po' di olio nella mano di Siti. Lei trovava lo sfortunato di turno e gli spalmava l'olio in faccia e guadagnava 100 euro ogni volta. James decide ad un certo punto anche di aumentare la paga a Siti perché era troppo brava e non voleva lasciarsela scappare. Siti non riusciva a credere alla fortuna che aveva avuto nell'incontrare questa persona. Finalmente, dopo tante difficoltà, la vita era stata gentile con lei. Presto avrebbe potuto rivedere suo figlio Rio e avrebbe potuto mettere da parte anche dei soldi. E oltre a tutto questo, Siti iniziava anche ad essere attratta da questo James. Lo trovava attraente e le piaceva questa sua personalità mite, questa sua personalità anche un po' timido. Lo trovava molto dolce. I due iniziano un po' a flirtare. Non è chiaro se sia mai successo qualcosa tra loro. Fatto sta che James inizia a fare programmi con lei. Le promette che un giorno l'avrebbe portata negli Stati Uniti insieme a lui. Siti si sente come in un film. Inizia quindi a fantasticare sulla sua nuova vita negli Stati Uniti insieme a quest'uomo così affascinante e gentile. Ma un giorno James le dice che, data la sua bravura, c'era un altro produttore di questo genere di show che voleva offrirle un lavoro, un tale di nome Mr. Chang. Siti accetta e l'iter era sempre lo stesso. Doveva fare sempre questo genere di scherzi, ma proprio sempre lo stesso scherzo con l'olio. Ma a differenza di James, questo Mr. Chang era molto serio, raramente sorrideva. Siti non era molto a suo agio con lui, ma di nuovo la paga era buona, quindi cerca di non dar peso a questa cosa qua. Nonostante Mr. Chang fosse un po' burbero, anche lui si complimenta con Siti, dicendo che lui e il suo team erano estremamente soddisfatti del lavoro che stava svolgendo. Per questo, oltre ai 100 euro scherzo che le dava, decide di darle anche 150 euro di bonus. E lei dice che aveva deciso di affidarle un lavoro molto importante. Un lavoro che avrebbe potuto renderla famosa non solo in Giappone, ma in tutto il mondo. Siti è emozionata e questa notizia, tra l'altro, cade nel giorno del suo compleanno, il 12 febbraio del 2017. Giorno in cui festeggia non solo i suoi 25 anni, ma anche tutte queste belle opportunità che le stavano capitando una dopo l'altra. Festeggia con una videochiamata con i suoi amici, ovviamente perché si trovavano in due paesi diversi, e i suoi amici sono felicissimi per lei. Le urlano al telefono che presto sarebbe diventata una celebrità. Il lavoro importante di cui parlava Mr. Chang si sarebbe svolto il giorno dopo, quindi il 13 febbraio del 2017, all'aeroporto di Kuala Lumpur. Siti incontra Mr. Chang in uno dei bar dell'aeroporto e lì l'uomo le spiega in cosa consisteva questo lavoro molto importante. Si trattava sempre di uno scherzo, ma stavolta sarebbe stato leggermente diverso dai soliti. Prima di tutto, Siti questa volta non avrebbe dovuto scegliere la sua vittima in modo casuale. Mr. Chang le avrebbe dato un bersaglio ben preciso per il suo scherzo. Quest'uomo, spiega Mr. Chang, era un suo superiore ed era conosciuto nella sua azienda proprio per essere un tipo scorbutico, sempre musone, proprio un po' antipatico e arrogante. Per questo motivo, questo genere di scherzo su un tipo come lui sarebbe stato ancora più divertente. Chiaramente a causa del suo caratteraccio questa volta c'era il rischio, c'era la possibilità che reagisse male a differenza di tutte le volte precedenti in cui nessuno mai aveva reagito in maniera brusca. Per questo Mr. Chang si raccomanda con Siti di allontanarsi dall'uomo il più velocemente possibile dopo lo scherzo. Inoltre, stavolta Siti non avrebbe lavorato da sola come era stato fino a quel momento. Stavolta sarebbe stata aiutata da un'altra donna. Sarebbero state in due. Praticamente le spiega che l'altra donna avrebbe fermato il bersaglio e nello stesso momento Siti sarebbe dovuta arrivare da un'altra direzione e gli avrebbe dovuto spalmare in faccia l'olio e subito dopo sarebbero dovute scappare il più velocemente possibile. Questo era il piano. Siti accetta, conferma di aver capito tutto e allora Mr. Chang tira fuori la solita boccetta le versa la solita sostanza oleosa nella mano e poi le indica col dito l'uomo che sarebbe stato il bersaglio di quello scherzo. Il bersaglio si trovava in piedi ed era intento a fare il check-in in uno di quegli sportelli automatici dove fai il check-in da solo. Vi ricordate siamo all'aeroporto di Kuala Lumpur e quest'uomo era alto, di mezza età con le spalle larghe e i lineamenti asiatici. Siti inizia a camminare verso di lui col cuore che le batteva fortissimo. Si capiva che fosse un uomo molto ricco indossava un completo che sembrava anche valere un sacco di soldi. Quindi Siti inizia anche a farsi duemila paranoia in quei pochi secondi che la separavano dall'uomo e se l'avesse afferrata impedendole di scappare via e se avesse chiamato la polizia. Ma si costringe a cacciare via tutti quei brutti pensieri tira un profondo sospiro per calmarsi e continua a camminare dicendosi che alla fine si trattava solo di uno scherzo scemo cioè cosa mai sarebbe potuto accadere di così brutto. Arrivata a due passi dall'uomo vede un'altra donna avvicinarsi al bersaglio probabilmente la seconda donna di cui le aveva parlato Mr. Chang e vede la donna mettere le mani sugli occhi al bersaglio. Allo stesso tempo quindi Siti procede e gli spalma tutta la lozione in faccia e subito dopo scappa via verso un bagno così da potersi lavare le mani della sostanza che era rimasta. Il lavoro quindi era terminato. Certo l'uomo non era affatto felice nel momento in cui Siti gli aveva spalmato tutto l'olio in faccia si era dimenato era visibilmente infastidito ma era finita basta Siti non avrebbe mai più rivisto quella persona in vita sua. Decide quindi di godersi il resto della mattinata mangiando qualcosa in uno dei bar dell'aeroporto e facendo una passeggiata tra i negozi prima di tornarsene a casa sua. Ma tre giorni dopo la mattina del 16 febbraio mentre Siti si trovava a casa sua sente bussare alla porta ed era la polizia. Le chiedono subito di dirgli dove si trovasse la mattina del 13 febbraio e le chiedono proprio ti trovavi all'aeroporto per caso? Lei risponde di sì e gli spiega anche tutto che aveva girato un video per YouTube proprio lì all'aeroporto. La polizia le chiede però di seguirli in centrale ma non le spiega il perché. Siti allora inizia a farsi tutte le paranoie del caso pensando che le avrebbero fatto dei problemi a causa magari del suo visto perché comunque lei veniva da un altro paese chi lo sa ma quando arriva in centrale gli agenti le comunicano che la stavano accusando niente meno che di omissio. Le spiegano che tre giorni prima un uomo di 45 anni di nome Kim Chol era arrivato all'aeroporto di Kuala Lumpur intorno alle 9 del mattino e doveva prendere il volo delle 10.50 per Macau che è una regione amministrativa speciale della Cina un po' tipo Hong Kong tra l'altro è proprio vicinissima a Hong Kong luogo in cui quest'uomo abitava. Kim Chol arrivato all'aeroporto si era avvicinato ad uno sportello automatico per fare il check-in quando all'improvviso due donne lo avevano aggredito una gli aveva messo le mani sugli occhi impedendo di vedere e l'altra gli aveva spalmato la faccia con una sostanza oleosa e appiccicosa ma giusto il tempo di capire che cosa gli stesse succedendo e di aprire gli occhi le due donne erano ormai scomparse e fin qui tutto chiaro giusto era tutto parte dello scherzo in cui era stata coinvolta City quello che lei non sapeva è che qualche momento dopo gli occhi di Kim Chol avevano iniziato a bruciare e un dolore lancinante si era diffuso in tutto il suo volto facendolo urlare di terrore aveva anche iniziato a sentirsi male con una forte nausea e forti giramenti di testa in pochi istanti aveva capito la sostanza che gli avevano spalmato in faccia era velenosa subito Chol inizia a perdere il controllo inizia a urlare a chiedere aiuto alle persone intorno a lui alcune persone che lavoravano lì all'aeroporto lo prendono e lo portano velocemente nell'infermeria che c'è all'interno di tutti gli aeroporti ma Chol peggiorava molto velocemente aveva difficoltà a respirare a camminare gocce di sudore gli sgorgavano copiosamente dalla fronte arrivato all'infermeria Chol non era neanche più in grado di parlare e di spiegare quello che gli era avvenuto il suo cuore batteva all'impazzata e la sua temperatura corporea era altissima inoltre digrignava i denti e in più si era anche defecato addosso perché non aveva neanche più il controllo delle funzioni fisiologiche viene velocemente trasportato su un'ambulanza ma nel tragitto verso l'ospedale perde i sensi la sua pressione crolla e dopo poco muore muore prima ancora di riuscire a raggiungere l'ospedale solo due ore dopo l'attacco con quella sostanza oleosa quando effettuano l'autopsia sul corpo di Chol si accorgono che tutti i suoi organi interni erano stati danneggiati e nei suoi reni, nel fegato e anche nel cervello vengono rilevate tracce di veleno effettuano quindi un test tossicologico con la quale riescono a risalire al tipo di veleno usato era un gas nervino chiamato VX il VX infatti è un veleno un agente nervino utilizzato come arma chimica addirittura classificato dalle Nazioni Unite come arma di distruzione di massa infatti la sua produzione è stata messa al bando nel 1993 questo veleno si presenta proprio come liquido di consistenza oleosa che può essere in colore oppure tendente al giallo ma che comunque non ha proprio nessun odore quindi potrebbe benissimo sembrare del semplice olio probabilmente aveva fatto effetto così velocemente su Chol poiché era stato subito assorbito attraverso i suoi occhi è un veleno molto potente che causa un fortissimo dolore e ne bastano appena 10 milligrammi per uccidere qualcuno pensate che a Chol gliene era stato spalmato in faccia molto più di 10 milligrammi anche per questo l'effetto era stato praticamente immediato quindi queste persone avevano raggirato Siti convincendola a fare degli scherzi apparentemente innocenti e stupidi in cambio di denaro col fine di uccidere una persona ma perché tutto questo? perché uccidere questa persona che sembrava un uomo come tanti? cerchiamo quindi di capire chi era questo Kim Chol controllando i suoi documenti la polizia scopre la sua data di nascita e il suo luogo di nascita era nato il 10 giugno del 1970 a Pyongyang in Nord Corea scoprono anche che nel suo bagaglio c'erano 100.000 dollari americani in contanti la cosa più assurda è che nel suo zaino c'era anche un antidoto per un veleno e non ho capito cioè non c'è proprio specificato se fosse l'antidoto per quel tipo di veleno fatto sta che palesemente doveva essersi dimenticato di averlo al momento dell'attacco forse per lo spavento il punto è amici miei che quello non era affatto un uomo normale come all'inizio pensavano tutti che stava prendendo il suo aereo per tornare a casetta sua a Macau quello era siete pronti? questo è un colpo di scena che neanche davvero nelle peggiori telenovelas di Caracas proprio quello era niente meno che il fratellastro del leader della Corea del Nord Kim Jong-un infatti il suo vero nome non era Kim Chol come aveva scritto su tutti i documenti ma Kim Jong-nam allora abbiamo già parlato della Corea del Nord in modo anche abbastanza approfondito in un altro mio video uno dei casi che mi hanno segnata di più senza dubbio quello del povero Otto se non l'avete visto ve lo consiglio davvero vi lascio il link quindi ora come saprete già la Corea del Nord non è un bel posto non ci sono altri modi di dirlo c'è un regime molto molto severo che in confronto a quello cinese è acqua fresca e a capo di tutto questo da quando è stata fondata nel 1948 c'è sempre stata la famiglia Kim il primo leader è stato Kim Il Sung seguito da suo figlio Kim Jong-il seguito alla sua morte da suo figlio a sua volta Kim Jong-un che è a capo della Corea del Nord ancora oggi ma quando Kim Jong-il era ancora in vita prima di diventare leader della Corea del Nord aveva a quanto pare costretto una famosa attrice coreana di nome Song Hye-ram scusate se pronuncerò male questi nomi a diventare la sua concubina nonostante questa attrice fosse già sposata e avesse già una figlia con suo marito ma a quanto pare queste cose in Nord Corea possono accadere quindi lei si trova costretta a convivere con questo tizio e dà anche alla luce un figlio da lui un maschietto di nome Kim Jong-il che è quello che è stato avvelenato nel 2017 statemi dietro mi raccomando successivamente insomma dopo un po' di tempo che Kim Jong-il stava con questa concubina diciamo che le cose si sono un po' raffreddate si sarà un po' stancato di lei e a quel punto aveva deciso di mandarla via esiliandola in Russia che carino che simpatico dopo un po' Kim Jong-il aveva conosciuto un'altra donna che diventa la sua prima ma non ultima moglie e con lei fa altri due figli tra cui Kim Jong-un quello che è ancora adesso il leader della Nord Corea ora che abbiamo capito un po' che la Corea del Nord è un posto poco simpatico ora che abbiamo capito chi è chi torniamo a noi una volta venuto fuori che l'uomo morto avvelenato all'aeroporto di Kuala Lumpur fosse il fratellastro di Kim Jong-un ovviamente sono partite mille teorie e cospirazioni sul perché fosse stato ucciso o sul chi avrebbe potuto volerlo uccidere i primi sospetti ricadono ovviamente sul fratello Kim Jong-un essendo un tipo appunto poco simpatico cioè non era un'opzione poi così improbabile anzi dal modo in cui era stato ucciso così spietato oltretutto proprio in bella vista in uno degli aeroporti più affollati del mondo era probabile che il mandante fosse proprio lui ma la Corea del Nord indignata ribatte ma va ma quello mica è il fratellastro del nostro leader quello lì è un uomo normale di nome Kim Chol che è morto di cause naturali forse gli è venuto un infarto cioè io davvero il coraggio cause naturali proprio come il povero Otto anche lui è morto di cause naturali vi prego andatevi a vedere il video se non l'avete visto per capire un po' come funziona questo paese qua comunque vabbè ma poi pure negare che quello fosse il fratellastro di Kim Jong-un cioè proprio negare l'evidenza le autorità malesiane prendono un campione del DNA della figlia di Kim Jong-nam mi rendo conto che questi nomi possano essere un po' confusionali me ne rendo conto anche perché hanno tutti più o meno lo stesso cognome Kim quindi mi dispiace se vi confonderete quando dico Jong-nam mi riferisco all'uomo che è stato avvelenato ok il fratellastro di Jong-un che è il leader della Corea del Nord ci siamo cercherò comunque sempre di associare sempre una foto così da confondervi il meno possibile comunque dicevo le autorità decidono di prendere un campione di DNA dalla figlia di Jong-nam e lo confrontano con il DNA dell'uomo morto avvelenato e ovviamente era compatibile quello era suo padre di conseguenza quello era davvero Jong-nam il fratellastro del leader della Nord Corea e che cavolo hanno voluto dimostrarlo col DNA per dimostrare appunto alla Corea del Nord che è veramente lui nel senso loro cercavano di negare l'evidenza ma era lui e basta le persone che conoscevano Jong-nam tra l'altro sapevano che si fosse separato dalla sua famiglia e che avesse lasciato la Corea del Nord proprio perché aveva difficoltà a condividere i loro principi crescendo aveva assistito a innumerevoli esecuzioni e a violenze in generale quindi ad un certo punto aveva scelto di andare via e di andare a vivere in Cina nel 2001 però Jong-nam aveva tentato di andare in Giappone usando un documento falso ma era stato scoperto la sua famiglia la famiglia Kim immaginate si è sentita oltraggiata da questa cosa umiliata Jong-nam ribatte che le sue intenzioni erano solo quelle di andare a visitare Disneyland di Tokyo ma la famiglia Kim non lo accetta di conseguenza lo esilia dalla Nord Corea non poteva mai più ritornarci ma a quanto pare Jong-nam nonostante fosse stato esiliato dalla Nord Corea continuava a prendere dei soldi dalla sua famiglia e questo perché avevano un qualche business in comune e riceveva grosse somme di denaro da loro che appunto lo aiutavano a sostenere il suo stile di vita che comunque era molto agiato la sua base era appunto Macau ma viaggiava moltissimo in Europa a Singapore a Shanghai Jong-nam era anche molto attivo su Facebook scattava un sacco di foto e poi le pubblicava tutte faceva una vita effettivamente normale faceva cose che chiaramente in Corea del Nord non puoi neanche sognare di fare ma per poter fare tutto ciò ovviamente non poteva usare il suo vero nome per questo si era procurato una nuova identità dei nuovi documenti con il nome appunto di Kim Chol anche il suo profilo Facebook infatti era proprio con questo nome ma voi vi chiederete perché Kim Jong-un avrebbe voluto uccidere il suo fratellastro cioè che fastidio gli dava alla fine era stato esiliato usava un nome falso si faceva i fattacci suoi pubblicava le sue foto su Facebook cioè qual è il problema dunque dovete sapere che Kim Jong-un è un leader molto molto paranoico e permaloso pensate che nel momento in cui è salito al potere ha fatto giustiziare circa 150 ufficiali del suo esercito e politici del suo governo solo perché sospettava di non potersi fidare di loro aveva anche ordinato di far eliminare qualsiasi membro della sua stessa famiglia che potesse rappresentare per lui una minaccia cioè che potesse creargli qualsiasi problema o che potesse opporsi in qualsiasi modo alle sue decisioni che effettivamente spesso sono da fuori di testa a questo proposito nel 2011 poco dopo la sua salita al potere il suo fratellastro Yong-nam aveva rilasciato un'intervista ad un giornale giapponese il giornalista gli aveva chiesto un parere sul fatto che il suo fratellastro Yong-un fosse appena diventato leader e Yong-nam si era permesso di dire che secondo lui Yong-un era ancora troppo giovane per ricoprire quel ruolo era ancora troppo immaturo queste parole ovviamente non sono state prese affatto bene da Yong-un che ha ucciso per molto meno infatti si era proprio sentito insultato dalla cosa si dice infatti che subito dopo questa intervista si siano mobilitati dei cecchini su ordine di Yong-un che avevano provato a far fuori Yong-nam a Macau ma queste sono tutte notizie che ovviamente sono state negate dalla Corea del Nord quindi io ve le riporto nel video perché penso sia giusto dirvele ma sappiate che non sono mai state confermate al 100% nel 2012 nel 2012 comunque in Corea del Sud che sarebbe la Corea buona la Corea bella in cui si può andare nel caso vi confondiate viene arrestato un uomo che era una spia della Corea del Nord che dopo ore di interrogatori aveva finalmente ammesso di essere stato pagato per simulare un incidente stradale per far fuori Yong-nam quell'anno Yong-nam aveva infatti mandato una lettera a suo fratello implorandolo di lasciarlo stare di lasciarlo vivere rassicurandolo dicendogli che non aveva nessuna intenzione di ostacolarlo in nessun modo voleva solo vivere la sua vita in pace e in questa lettera addirittura gli ha scritto le seguenti parole io e la mia famiglia non abbiamo nessun posto in cui nasconderci e siamo consapevoli che l'unico modo per riuscire a scappare ai tuoi attacchi e toglierci la vita ma questa lettera non aveva avuto nessun effetto sulle paranoie di Yong-un infatti solo sei mesi prima di questo attacco col veleno Yong-nam aveva confidato proprio queste paure ad un suo amico dicendogli di volersi trasferire in Europa perché forse lì sarebbe stato più difficile per suo fratello riuscire a trovarlo ma poi com'è finita lo sappiamo tutti no? sapendo tutte queste cose è normale pensare che dietro tutto questo ci sia proprio il suo fratellastro Kim Jong-un comunque vi ricordate la povera City Aisha questa poverina che voleva solo diventare famosa su YouTube immaginate il suo shock quando la polizia l'ha portata in centrale e le ha comunicato che l'accusavano di aver ucciso il fratello del leader della Corea del Nord cioè mettetevi un secondo nei panni di questa poverina cioè tu sei convinta di fare degli scherzi scemi e di spalmare olio in faccia alla gente invece stai spalmando gas nervino cioè ma rendiamoci conto comunque City non aveva nessuna idea neanche di chi fosse Kim Jong-nam non sapeva nulla di tutto questo però effettivamente racconta di essersi sentita male quella volta dopo avergli spalmato quello che a quanto pare era veleno ricorda di essere uscita dall'aeroporto di essere salita su un taxi per tornare a casa e di essersi sentita male su quel taxi e questo aveva senso perché lei aveva comunque toccato il veleno però si era lavata le mani poi subito dopo questo significa che solo una piccola quantità era penetrata nella pelle una quantità sufficiente da farla stare poco bene ma non abbastanza per ucciderla o crearle dei gravi danni le autorità identificano anche la seconda donna quella che aveva aiutato City in quell'attacco una ragazza 28enne di origini vietnamite di nome Doan Thi Huang anche lei aveva incontrato un uomo che le aveva parlato di un'opportunità lavorativa molto interessante anche lui cercava delle giovani attrici e Doan aveva sempre sognato di fare l'attrice anche lei aveva incontrato quest'uomo che le aveva spiegato il lavoro ovvero fare degli scherzi tipo candid camera che sarebbero finiti su un canale youtube tutto quello che doveva fare era versarsi dell'olio sulle mani e spalmarlo in faccia alla gente insomma gente a caso e anche lei come City aveva accettato con entusiasmo la polizia all'inizio era un po' titubante non sapeva se credere a queste dichiarazioni sembrava tutto così assurdo all'inizio pensavano che fossero delle assassine professioniste che avevano orchestrato il tutto anche quelle scuse assurde comunque il capo della polizia malesiana parla con l'intelligence malesiana che gli dà cinque nomi uno di questi era il nordcoreano Ri Ji Hu le autorità poi analizzando il cellulare di City avevano trovato tutti i video che lei aveva fatto durante quelle giornate e ce n'era uno in particolare in cui lei aveva ripreso James vi ricordate il giapponese carino e timido che le piaceva tanto? ecco questa persona non si chiamava James e non era neanche giapponese era proprio questo Ri Ji Hu ed era della Corea del Nord mentre invece Mr. Chang l'altro produttore con cui aveva parlato City si chiamava invece Hong Song Hak e anche lui guarda caso era dalla Nord Corea e anche il produttore che aveva adescato l'altra ragazza Do Han era anche lui dalla Corea del Nord e oltre loro c'erano altri uomini sempre nordcoreani che erano coinvolti in tutta questa cosa e supervisionavano la situazione praticamente controllavano che le ragazze facessero il loro lavoro e che tutto andasse secondo i piani facevano diciamo da palo ed erano sparsi per l'aeroporto ma chiaramente nel tempo impiegato dalle autorità per identificare tutte queste persone loro erano già riusciti a dileguarsi o erano tornati in Corea del Nord il giorno stesso dell'aggressione o alcuni si erano rifugiati all'ambasciata nordcoreana della Malesia dentro cui le autorità malesiane non possono neanche entrare ragazzi sembra follia lo so ma è un caso che è successo davvero io vi giuro che mentre scrivevo appunto il testo di questo caso dovevo fare delle pause perché non ce la faccio è follia comunque insomma alla fine tutti sono riusciti a scappare tranne queste due ragazze le due ragazze Siti e Doan sono state le uniche a dover affrontare tutte le conseguenze di quello che inconsapevolmente avevano fatto le due erano accusate di omissio quindi dovevano sostenere un processo e se dichiarate colpevole avrebbero anche potuto ricevere la pena di morte il processo inizia nell'ottobre del 2017 e nell'agosto successivo il giudice decide che ci sono abbastanza prove per condannare le due ragazze non riusciva a credere che tutte e due erano state così tanto ingenue da credere ad una cosa del genere che appunto quelli fossero solo degli scherzi innocenti non avevano mai visto delle telecamere nascoste cioè tutte queste telecamere di cui gli uomini tanto parlavano oppure nessuno di loro era mai andato dalle vittime di questi scherzi a spiegargli che appunto si trattava solo di uno scherzo come spesso viene visto nelle candid camera il giudice sosteneva che quell'attacco fosse stato secondo lui ben pianificato sia dalle ragazze sia dagli uomini nordcoreani cioè che fossero tutti coinvolti in egual modo ma le ragazze dovevano ancora aspettare sei mesi per una sentenza definitiva nel frattempo dovevano stare in prigione Siti prende malissimo le parole del giudice era terrorizzata dal pensiero di dover stare in carcere dal pensiero di essere giudicata colpevole dal pensiero di essere condannata alla pena di morte che tra l'altro in Malesia la pena di morte è l'impiccagione infatti nel corso di questi sei mesi in prigione la sua salute mentale e fisica crolla drasticamente piangeva tutti i giorni tutto il giorno non mangiava non dormiva aveva paura che non avrebbe mai più rivisto suo figlio Rio ma nel 2019 succede una cosa assurda le accuse contro Siti decadono su richiesta del governo malesiano ma senza dare nessuna spiegazione pochi giorni dopo Siti torna in Indonesia nella sua città natale in cui una folla di gente si era riunita per festeggiare la sua libertà ma l'altra ragazza invece Doan era rimasta in carcere adesso era lei l'unica responsabile il cui destino era nelle mani del giudice il governo vietnamita paese originario di Doan inizia quindi a protestare e a fare diverse petizioni per ottenere anche il suo rilascio perché avevano liberato solo una delle due ragazze quando era chiaro che tutte e due fossero state raggirate nello stesso identico modo finalmente infatti il primo aprile del 2019 anche le accuse di Doan decadono e anche lei viene rilasciata questa volta il motivo era che avevano trovato un accordo praticamente Doan si era dichiarata colpevole di aver volontariamente causato del male sicuramente esiste un termine legislativo in italiano per dirlo in modo più appropriato ma io non lo conosco quindi se lo sapete ditevelo voi lasciate un commento grazie e grazie a questa missione di colpa viene rilasciata un mese dopo nel settembre del 2019 City ha rilasciato un'intervista al Daily Mail in cui tra le cose rifletteva sul fatto che alla fine in un modo o nell'altro è davvero diventata famosa in tutto il mondo come le aveva promesso quel James gli uomini che invece davvero avevano pianificato e organizzato il tutto non sono mai stati ritrovati e purtroppo onestamente non credo che verranno mai trovati e ovviamente che ve lo dico a fare no? non è mai stato dimostrato che il mandante di questo omicidio fosse effettivamente Kim Jong non ci sono mai state conseguenze per lui e tutto è rimasto un po' così amici io rimango sempre basita quando vengo a conoscenza di casi del genere so che vorreste che io portassi molti più casi asiatici anche casi cinesi me li chiedevate molto quando vivevo lì a Shanghai e io non potevo farlo primo perché non volevo diventare io la protagonista di uno di questi video e secondo perché comunque non se ne parla tantissimo di questo tipo di casi quindi a meno che uno non conosca molto bene la lingua è davvero complicato raccogliere informazioni comunque amici fatemi sapere se conoscevate già questa storia assurda fatemi sapere quanto vi ha fatti nervosire da uno a dieci e fatemi sapere che cosa ne pensate pensate che City e l'altra ragazza fossero davvero segretamente coinvolte in questa storia oppure che fossero davvero due vittime giovani e ingenue che hanno creduto a questa storia dei video di appunto Candid Camera io trovo assurdo che un giudice abbia dichiarato di avere difficoltà a credere che siano state così ingenue da versi questa storia cioè io non lo trovo affatto difficile da credere purtroppo erano due ragazze giovani in difficoltà con un bisogno disperato di soldi e soprattutto sole queste sono le prede più facili per truffatori o in questo caso molto molto di peggio purtroppo quando si è giovani e quando non si hanno amici o non si ha una famiglia che sta lì a dirti oh ma cosa stai facendo cioè stai attenta insomma è facile farsi raggirare è facile vedere quello che si vuole vedere quindi per me le due ragazze dicevano la verità e sono contenta che alla fine almeno siano state rilasciate anche se presumo che il trauma di quello che gli è successo non passerà mai ma fatemi sapere che cosa ne pensate voi amici per favore siate gentili nei commenti non siate troppo duri so che è un caso che vi farà arrabbiare ma siate sempre rispettosi nei commenti e amici queste sono purtroppo tutte le informazioni che ho su questo video io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e come al solito ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.